e siamo arrivati a 6.000 iscritti sul canale MasterExcel.it colgo l'occasione per dirti di non perdere i prossimi due video che saranno su due funzioni che stanno rivoluzionando Excel una è la funzione più se, non somma più se, non conta più se semplicemente più se, che va a rivoluzionare le if, ovvero le if nidificate e l'altra, la funzione cerca X, dove la X sta per la groccia che stanno mettendo sopra la tomba del cerca verticale quindi non perderti i prossimi due video, noi ci vediamo su MasterExcel